Cosa è normale per te? Oggi forse le offese, ordinare un caffè, aspettar fine mese da un po', io negli occhi tuoi vedo un falò che brucia da sempre. A me la parola normale ha sempre fatto un po' paura, forse è un fatto generazionale perché mentre io crescevo essere normali era considerato banale, bisognava essere originali a tutti i costi. Per me la normalità è fare la differenza. E' la protagonista di una curiosa inchiesta, Giorgia, con la complicità di un estroso regista, Rocco Papaleo. E' andata in giro per le strade di Roma chiedendosi cosa significhi la parola normale e ponendo la stessa domanda alle persone che incontrava. Magari era normale che una donna non studiasse sicuramente ingegneria chimica, ora è una cosa più che normale. Cosa è normale? È una famiglia. Normale è appunto il titolo del nuovo singolo di Giorgia. Da oggi in rotazione radiofonica è disponibile in digitale, che anticipa il suo prossimo album di inediti. Nel nuovo brano, firmato tra gli altri da Mahmood e Dardast, Giorgia accoglie le suggestioni del pop, dell'urban e del soul, modulate dalla sua inconfondibile voce, per confidare che anche un abbraccio può far male, chiedendo poi al suo interlocutore, dimmi che cosa vuol dire per te normale. Che un abbraccio può farmi male, dimmi che cosa vuol dire normale. Che un abbraccio può farmi male, dimmi che cosa vuol dire normale. Che un abbraccio può farmi male, dimmi che cosa vuol dire normale. Che un abbraccio può farmi male, dimmi che cosa vuol dire normale. Che un abbraccio può farmi male, dimmi che cosa vuol dire normale. Che un abbraccio può farmi male, dimmi che cosa vuol dire normale. Che un abbraccio può farmi male, dimmi che cosa vuol dire normale. Grazie per la visione!